Ciao ragazzi! Oggi proponiamo una ricetta fresca, veloce e estiva, ma allo stesso tempo con degli accostamenti un po' particolari. Iniziamo subito. Utilizzeremo dei filetti di sgombro grigliato. Nel frattempo andiamo a fare una cipolla julienne e rosolarla in padella. Versiamo un composto di aceto, zucchero ed acqua, cosicché otterremo le nostre cipolle in agrodolce. Nel frattempo mettiamo a bollire delle patate e denoccioliamo le ciliegie. Adesso tagliamo le patate bollite, le andiamo ad impiattare, aggiungiamo le ciliegie denocciolate, un giretto d'olio, una macinatina di pepe, melanzane sott'olio, cipolle in agrodolce, filetti di sgombro grigliato. Ed eccoli qua! Una manciatina di prezzemolo e il gioco è fatto! Riprovateci!